ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione lettura un caloroso saluto a tutti quanti a chi mi segue da tanto con affetto e anche ai nuovi a chi si trova qui in questo video per la prima volta ad ascoltarmi quindi vi rinnovo a tutti quanti l'invito a iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche allora oggi vediamo un po' quali cambiamenti stanno per arrivare ok nei limiti del possibile vediamo le energie poi ricordo chiaramente che è sempre un interattivo quindi prendete quello che risuona il resto lasciate andare non dovete trovare per forza una risposta se non è per voi quindi questo mi auguro sia sempre presente quando si aprono i video collettivi allora appunto cerchiamo di vedere attraverso delle energie dei messaggi anche dai maestri ascesi dagli esseri di luce vediamo quali cambiamenti stanno per arrivare vediamo cosa c'è cosa c'è a livello di evoluzione e di cambiamenti proprio tangibili quindi nella terza dimensione che può che possiamo vedere nella nostra vita facciamo tre stese con le nostre piramidine con orgone e pietre facciamo la prima lettura con la piramidina di quarzo citrino e organite la seconda lettura la facciamo con l'orgonite e ametista la terza lettura la facciamo all'orgonite e lapislazuli quindi lettura 1 quarzo citrino lettura 2 ametista lettura 3 lapislazuli qui abbiamo intanto gli accessori che per passione io creo questo è il tappetino per il mouse dei miei oracoli e dei messaggi divini che sono questi qua poi ci sono anche le tovagliette come questa qua che è la tovaglietta ascensione tutti i link per quanto riguarda sia parlare con me e tutte le mie creazioni li trovate nella descrizione del video sotto allora io lascio qua le nostre scelte e vado a preparare i mazzettini intanto apriamo subito poi se serve di approfondire perché c'è qualcosa che non è tanto chiaro si approfondisce vediamo la lettura 1 allora la lettura 1 la lettura 2 e la lettura 3 poi mettiamo anche l'energia ovviamente vediamo com'è energeticamente il cambiamento che sta per arrivare tanto è sempre tutto in cambiamento eh le energie cambiano molto spesso vediamo lettura 1 questa lettura 2 questa lettura 3 questa era una si sembravano due mettiamo anche i nostri esseri ascesi vediamo un po' cosa ci dicono e chi soprattutto viene fuori con il suo messaggio vediamo lettura 1 o maestra è maestro o maestra lettura 2 lettura 3 e mettiamo anche queste una carta dei miei messaggi di vignoracolo le mettiamo come consiglio ma potrebbe esserci scritto non solo il consiglio qui ma anche il cambiamento è perché su alcune ci sono dei cambiamenti in arrivo su altre sono consigli vediamo vediamo cosa arriva a te quello che arriva sapete come la penso non è un caso allora adesso facciamo la nostra stesa sopra il nostro tappetino quindi chi ha scelto la piramide del quarzo citrino andiamo un po' a capire le novità per te quindi apriamo subito le nostre carte che abbiamo già tirato giù e vediamo no che novità sì anche novità ma cambiamenti in arrivo vediamo di cosa si tratta allora qui dicono ah qui allora arriva qualche aumento nel diciamo nello star bene a livello pratico e fisico quindi qualche piccolo lusso te lo potrai concedere ok poi per chi è anche in una fase di crescita personale lavoro personale ti dicono di cambiare un po' le tue abitudini di stare più tempo da sola o da solo ok perché dicono qua che sei una persona talentuosa e di successo che riesce meglio quando è da sola o da solo va bene quindi qua tempo di cambiamento in arrivo probabilmente ti aumenterà un po' un certo desiderio di solitudine magari forse sei una persona che sia un po' stancata quindi questa è una delle cose delle energie che sta cambiando magari sei stanca delle persone o stanco insomma senti una pesantezza quando sei in compagnia di altri ecco questa cosa ci dicono qua che sta cambiando in te magari non è stato sempre così ma arriverà questo cambiamento in te dove vorrai sempre di più stare in solitudine che è un bene questa è una sana solitudine non è una solitudine malata tra l'altro ci dicono anche dei piccoli lussi che ti puoi concedere quindi probabilmente ci sarà anche qualcosina a livello di soldi se adesso non ci sono che ti permetteranno di toglierti qualche soddisfazione dicono qua quindi questa cosa sta cambiando vediamo ancora in che energie sarai ah ecco qua vedi la ricettività l'antenna bellissima questa carta vuol dire che comunque vai sempre più su qui cara stesa 1 lettura 1 sono proprio contenta il quarzo citrino ci sta dicendo veramente che avrai delle connessioni che non sia pure proprio grazie alla alla solitudine benefica che attirerai qua stando proprio da sola o da solo e questa ricettività che aumenta quindi cambierà sarai più ricettiva sarai più ricettivo una cosa molto importante che sta per cambiare in te quindi probabilmente qui all'ascolto ci possono essere delle persone che stanno lavorando ok a livello proprio personale e spirituale e quindi dopo tempo che si lavora e si persevera soprattutto perché con una volta a settimana non si riesce ogni giorno dedicare un po di tempo al proprio percorso interiore questo sì allora vedrete che poi nel tempo queste antenne verso l'alto verso le altre dimensioni si espandono vediamo ancora chi è il maestro asceso per te odino vabbè altro che allora qui abbiamo anche delle intuizioni a livello di terzo occhio quindi ci parla anche del sesto chakra allora qui dice che il tuo terzo chakra è aperto ok vedi proprio la verità per quella che è ci dicono quindi ci dice segui la tua intuizione ti dice lui è quindi qua odino ci sta dando un grandissimo e importantissimo messaggio ci dicono che il tuo terzo occhio è aperto se non è ancora così è in una fase di cambiamento e sta andando verso l'apertura quindi probabilmente sarà in grado di vedere con l'altra vista come si chiama in campo energetico in gergo diciamo olistico l'altra vista quindi qua stiamo andando veramente verso un aumento di coscienza quindi complimenti a chi si è tanto impegnato o impegnata per proprio questa crescita spirituale qua abbiamo veramente proprio un cambiamento in arrivo per quanto riguarda la vista ok la vista psichica l'intuizione e ti dice anche di seguire l'intuizione perché probabilmente avrai sta cambiando questa cosa in te avrai delle intuizioni molto chiare io dico anche delle visioni perché il sesto chakra è proprio la visualizzazione no di quello che non si vede a occhio nudo quindi col col sesto chakra quindi il chakra del terzo occhio aperto siamo in grado di vedere molto di più quindi se non è già così sta cambiando sta cambiando questo chakra per te te lo dice proprio il maestro è sceso odino vediamo adesso quale altro cambiamento o consiglio c'è qua chiedici di aiutarti ecco qua c'è un consiglio senza il tuo permesso non possiamo intervenire 441411 ti do il permesso di aiutarmi è la frase da recitare va bene qua abbiamo questi numeri di riferimento no che magari possono essere dei numeri che già ti compaiono spesso il 44 il 14 l'11 o anche singolarmente ogni numero il 4 l'1 va bene qui è richiesto un ulteriore diciamo sforzo nel dare il permesso magari a volte ci scordiamo di questa cosa invece non bisogna sottovalutarla perché possiamo dare il permesso una volta e poi ci dimentichiamo ok sarebbe meglio ogni tanto rinnovare questa cosa agli esseri di luce qui chiedono proprio siccome ti vogliono aiutare ti stanno dicendo proprio chiedici di aiutarti perché dicono questo perché il libero arbitrio non può essere proprio assolutamente non si possono mettere in mezzo gli esseri di luce nel libero arbitrio della persona quindi con questa frase ti do il permesso di aiutarmi si dà proprio un intento chiaro agli esseri delle altre dimensioni per venirci proprio in aiuto e che noi desideriamo essere aiutati questo è molto importante questa cosa vediamo adesso qualcos'altro che sta per cambiare o vediamo anche diciamo il settore se vogliamo tiriamo giù tre carte e vediamo che cos'altro sta per cambiare 1 2 e 3 che cambiamento c'è in arrivo qua vediamo allora qua verità svelate che mi ricorda molto eccolo qui il discorso di odino di seguire la tua intuizione perché qui c'è qualcosa che sta per venire fuori che tu capirai va bene per molti riguarda un concetto proprio di giustizia che sia divina o che sia terrena qualcosa finalmente in arrivo che ti darà giustizia sta per arrivare quindi c'è un cambiamento in chi ha scelto la lettura 1 a livello anche di giustizia che sia ripeto terrena che sia divina ma per quanto ti riguarda se hai subito delle cose dei torti delle cose per cui ha sofferto e sentivi che non era giusto va bene qui ci dice che c'è un riportare la giustizia perché perché qui ci si sentiva anche se vogliamo dire bloccati c'è qualcuno qui che non si riusciva a muovere proprio perché impossibilitata o impossibilitato da cose che non si riuscivano ancora a capire e non si riuscivano ancora a vedere quindi questa cosa è un cambiamento che accadrà a breve quindi giustizia sia da che parte viene non importa ma la giustizia soprattutto quella divina non fallisce mai restituisce tutto a tutti quanti e come ci diceva udino il tuo terzo occhio vedrà perché qui c'è qualcosa che ancora non si sta vedendo qualcosa che forse ti ha anche tenuto nascosto ma non ti preoccupare perché con questo terzo occhio che sta vedendo si sta aprendo se non è già aperto vedrai che poi tutto sarà più chiaro ti sarà svelato questa la lettura 1 è proprio lo svelare e il vedere va bene questo è ciò che sta per cambiare quale cambiamento arriva quali cambiamenti anche quindi benissimo la cosa importante che ci diceva la carta delle energie era questa ricettività questa connessione che tu riesci ad avere che riuscirai anche andando avanti ad avere ea migliorare va bene lettura 1 grazie mille di essere stata o stato qui con me ti invito a lasciarmi un like al video iscriverti al canale e io proseguo allora la lettura 2 con l'ametista e l'orgonite la mettiamo qua questi sono i messaggi per te vediamo quali cambiamenti stanno per arrivare nella tua vita il cambiamento ok importante proprio o i cambiamenti importanti che stanno per accaderti vediamo da un po di voci che abbiamo qui vediamo quale vuole parlare quale vuole emergere per te oggi vediamo subito ok allora qua c'è qualcosa da imparare imparerai qualcosa da una situazione ok che ti ha probabilmente portato dei conflitti quindi qua ci sarà un cambiamento in te perché probabilmente vedrai la verità di una situazione che forse non era ancora chiara però ci dice anche di più ci dice che imparerai da qualcosa ok quindi c'è questo cambiamento in te ancora da fare forse non avevi ancora come dire incentrato no inquadrato bene il motivo per cui è successo qualcosa dice qua nella tua vita e presto lo scoprirai imparerai questa lezione dicono qui va bene probabilmente dovuta vedo qua visto che un 5 d'aria a conflitti allontanamenti litigi qui non si parla solo d'amore qui si parla di vita intera a 360 gradi e qui può essere qualsiasi ambito della tua vita quindi c'è un cambiamento che ti deve arrivare perché devi imparare da qualcosa qui c'è proprio la parola chiave imparare quindi imparerai qualcosa da una situazione che ti ha portato sofferenza è così che funziona molto spesso tra l'altro ricordo carta di spade carta dell'elemento aria quindi comunque qualcosa forse a livello di ferite anche a livello verbale se vogliamo quindi comunque qualcosa sempre da imparare ci dice vediamo anche l'energia come ci ecco perché io credo che qua ci si deve staccare qui arriverà fortunatamente uno staccarsi da delle tossicità ok da delle cose esterne io qui credo proprio che all'ascolto ci siano persone che si sentono un po' ingabbiate sembra qua un po' in ostaggio capiamoci bene sia da loro stesse ma non solo perché molto spesso le nostre gabbie ce le facciamo noi ok ci condizioniamo noi stessi con i nostri stessi pensieri tantissime volte accade questo ed è anche sottovalutato non lo sottovalutate il potere che avete nel pensiero quindi qui cambiamo questa cosa non ti preoccupare perché sta per accadere questa cosa la stai per lasciare andare quindi anche se l'ambiente intorno vedi che è come se tu ti sentissi praticamente così che tu non conti niente che tu non decidi niente che sei molto preda molto vittima di quelli che ti stanno intorno e tu non hai la capacità mi viene qua come fosse di di rugire di urlare non ce la fai non ce la fai perché ti senti oppressa oppresso qui c'è una voce che deve venire fuori qui ci sarà uno staccarsi da certi errori che si tendono a ripetere molto spesso sia che tu permetti agli altri di farli nei tuoi confronti sia che tu stessa o tu stesso sia la causa di questi errori perché molto spesso tendiamo a dire che è colpa di quello che è colpa di quell'altro e può essere anche vero ma non è sempre vero ricordo che tutto ciò che ci viene fatto non è sempre colpa degli altri perché dipende molto da quale permesso dai questo non è dal permesso agli angeli non è questo questo è dare un permesso alle persone di fare come gli pare e questo non va bene quindi poi non ci lamentiamo se le persone fanno con noi come gli pare perché dipende cosa trovano davanti se trovano un muro chiaramente come gli pare non ci fanno quindi qui sì sicuramente sarà anche responsabilità degli altri ma dipende molto da quanto potere dai tu a queste persone quindi ti stai per sganciare ti stai per evolvere in un certo senso qui c'è come fosse anche un discorso karmico credo cioè di questa dipendenza magari recita il decreto dell'arcangelo rasel che ti può aiutare ad alleggerire un po il peso che ti porti dietro delle vite passate magari delle persone che hai intorno che senti un qualcosa con queste persone che ti senti un po qui mi dà l'impressione io avverto questa energia di persone strozzate cioè come se no sapete quando uno si sente proprio legato strozzato che non riesce incastrato non lo so così incatenato ma in tutti i livelli è tutti i livelli soprattutto mentale che non si ci si riesce a muovere queste cose qua è come se uno si sentisse un po ingabbiato mi dà questa impressione quindi sta per cambiare questa cosa ci dicono quindi lavora su di te e lavora con i decreti con i codici sacri con le meditazioni perché queste cose muovono le energie non sono bla 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 la ripetizione della della messa queste sono energie che si vanno a muovere e le muoviamo chi non ci crede mi dispiace ma sappia che l'energia dei decreti funziona va bene funziona l'importante è che ci creda soprattutto chi lo fa perché non bisogna prendersi in giro se non ci credi neanche tu certo che non funziona questo è chiaro ma non è solo il decreto qui tutto è la realizzazione personale di una persona nella vita si vede da quanto ci crede quindi anche per le cose spirituali funziona così va bene andiamo avanti vediamo quale essere divino maestro asceso viene qua oggi brigid qui abbiamo la forza proprio interiore allora qui dice un po di allora tu devi capire ti dice qua fai un passo indietro perché perché devi capire che hai il potere e la forza personale quindi devi proprio capirla questa cosa tu hai il potere personale ok quindi fai un passo indietro a volte a rivedere ecco vedete che è sempre un po c'è un filologico in tutto questo è a livello di energia ci dice brigid che c'è una forza interiore dentro chi ascolta però è come se non fosse stata captata mi dice qua quindi fai se serve fai dei passi indietro anche per capire per rivedere no per riconsiderare anche se vogliamo delle cose e dice qua capisci lo proprio cioè lo devi afferrare questo concetto che tu hai il potere quindi tutto ecco cosa dicevo prima del farsi gestire manipolare dare troppo il potere agli altri ti avevo detto da te viene tutto quanto ecco questa è la conferma questa è la conferma tu hai il potere tu le devi fermare le persone non è che può aspettare che uno si è comportato 30 anni male e si alza una mattina diventa santo allora è anche vero che si è visto di tutto nella vita per carità ecco però insomma è un pochino un sogno può anche accadere ma può anche non accadere quindi nel frattempo non possiamo aspettare che passano 40 anni quindi comunque fai tu comunque il primo passo per un cambiamento e non permettere più alle persone di fare come vogliono loro nei tuoi confronti qui viene fuori questo lettura 2 viene fuori questo perciò il potere tuo ti dice perciò siccome ce l'hai questo potere riconoscilo in te vedilo in te con il lavoro personale questa cosa viene fuori ok quindi probabilmente devi un pochino anche aumentare questo tipo di discorso a livello spirituale in te perché il lavoro spirituale dà una forza pazzesca ti potrebbe aiutare su questa cosa il lavoro personale andiamo avanti vediamo se c'è un consiglio allora lo stesso pensiero che mi mandi sarà quello che riceverai attenzione alle parole e ai pensieri che esprimi allora qua ci dice che soprattutto a breve devi fare molta attenzione a quello che pensi qui si è in un momento di cambiamento proprio dove ogni virgola sarà guardata sarà considerata perciò molta attenzione a tutto quello che mandi fuori cominciamo con il reset di come parlo di come mangio di chi frequento di cosa ascolto e via dicendo qui ci vuole un po un cambiamento un cambiamento che deve partire proprio dal basso e poi salire andare su il numero il 16 o l'1 o il 6 o anche il 61 nella tua vita che potrebbero essere più importanti di altri numeri o essere numeri che vedi spesso potrebbe essere anche questo quindi attenzione ti dice qua perché su queste carte ci sono o consigli ok o cambiamenti che arrivano qui c'è un consiglio per te perciò attenzione a quello che stai pensando che penserai soprattutto andando avanti e da quando senti questo video andando avanti attenzione a pensieri e a parole e parole vediamo altre tre carte sui cambiamenti che stanno per arrivare perché ha scelto la lettura 2 la piramidina ametista quali altri cambiamenti ci sono qua cos'è che sta per cambiare allora qua sta cambiando tutto devo dire la verità qui ci sarà ci sarà qualcosa che finalmente dico crollerà perché qua è sempre impostato come energia di crescita non è una cosa che va a scendere ma che va a salire in questo canale a livello di energie di canalizzazioni quindi qua ci dice che se dovesse finire qualcosa nella tua vita per la quale già già qua già c'è qualcuno di triste qua non è che ancora non si è capito io dico che qua chi ascolta ha capito ha capito che c'è qualcosa che probabilmente sta per concludersi scusate e che crea molta malinconia molta tristezza un senso di amarezza un senso proprio di depressione un senso della serie non so che fare no tristezza assoluta quindi qua sappi che questa cosa sta per cambiare perché perché c'è bisogno di ritrovare il potere in te tutto questo che ti ho detto dall'inizio magari riascoltalo perché ne ho dette tante sta per finire qui si deve crescere qui la parola chiave è anche potere per questa stesa lettura 2 qui sicuramente chi sta ascoltando è stato benedetto qua dentro perché qua ci dice proprio che così non va più bene qui già l'energia del condizionamento è molto forte quindi vuol dire proprio come ho detto prima l'aggancio l'essere agganciati continuamente da energie esterne qua dentro e non va bene qui il consiglio è fare le parole magiche dei ganci psichici in modo da liberarsi e di pulirsi da quello che è intorno a noi che ci aggrappa che ci aggancia continuamente perché non sei ancora abbastanza forte a livello energetico e quindi molto facilmente le persone riescono ad agganciarti e non sempre per il bene ok su questo canale trovi sulla playlist decreti parole magiche trovi proprio ricordati questa parola dei ganci psichici questa frase le parole magiche e ti aiuteranno con la ripetizione e vedrai segui tutto il video parola per parola cosa fare la mattina cosa fare durante il giorno e che cosa citare sin dal mattino eccetera qui c'è bisogno di una pulizia per questa stesa molto forte molto forte perché sta per terminare ok qualcosa qua qua c'è un cambiamento i cambiamenti che sono per te in arrivo sono i cambiamenti quelli che mi ricorda una carta di un altro mazzo mio quando dicono cambiamenti chiusure positive benefiche ecco una cosa del genere cioè quello che sta per finire non è che sta per cambiare finire non è una disgrazia questo ti voglio dire è una cosa benedetta è una cosa che finalmente ti riesce a liberare probabilmente dopo questo ritroverai questo famoso potere che ti è richiesto qua che ti è stato detto di ricordarti che tu hai questo potere quindi non va bene qua chi è ancora controllato dagli altri qui bisogna molto sganciarsi dagli altri questo sta per avvenire questo è uno dei cambiamenti nella tua vita che sta per avvenire va bene lettura 2 ricordati bene riscoltati anche magari il video se vuoi e io ti invito a lasciarmi un like a questo video iscriverti al canale ti ringrazio e vado avanti eccoci qua con la lettura 3 che ha scelto la piramide con il lapislazzuli vediamo quali cambiamenti stanno per arrivare alla persona che ha scelto la lettura numero 3 e la pietra blu lapislazzuli vediamo partiamo subito vediamo quali sono i cambiamenti i consigli le situazioni e le energie vediamo subito quali cambiamenti ci sono qua qui dice che arriverà presto una felice vita familiare e una sicurezza economico finanziaria va bene qui non solo nelle cose materiali materiali quindi di questa di questa terra famiglia e anche una certa sicurezza economica ma ci dicono anche che troverai la gioia e la bellezza anche nelle piccole cose quindi qua c'è anche una sorta di consapevolezza di risveglio interiore al tutto quello che c'è intorno a noi quindi qua stai per capire anche cose verso le quali magari prima non devi attenzione alle quali non devi attenzione non riuscivi a percepire che ne so il profumo di un fiore quando sentivi il cinque tiudo un uccellino il movimento dell'erba che fa quando c'è vento cioè per dire quelle piccole cose guardare un uccello che vola una farfalla cioè le piccole cose che danno le gioie vere collegate proprio alla nostra madre terra quindi qua infatti una carta di terra quindi vita familiare felice e sicurezza economica stanno per arrivare a te quindi se hai avuto difficoltà non ti preoccupare andiamo avanti ecco qua ti devi molto rilassare dicono forse ci sono persone molto tese nella stesa lettura 3 perché ti chiedono proprio questo segui il flusso lasciati trasportare rilassati e questo è quello che tu farai sembra proprio da qua perché adesso vediamo anche le altre carte comunque sia abbiamo proprio una leggerezza qui in arrivo per te perché perché probabilmente per chi ascolta il discorso chiaramente ma è ovvio vita familiare soddisfacente piacevole felice avere anche una certa sicurezza economica è molto importante no quindi comunque questa cosa ha creato delle difficoltà ha creato delle tensioni dello stress no delle tensioni a livello mentale quindi finalmente qua c'è adesso un liberarsi lasciarsi andare no è come quando si fa il morto sull'acqua cioè quel senso proprio di leggerezza quindi qua molto bene andiamo avanti vediamo i maestri ascesi addirittura ganesh abbondanza infinita che ci corrisponde stupenda questa sincronicità sempre allora gli ostacoli sono stati rimossi il supporto spirituale e la connessione sta aumentando ti dice lord ganesh ho detto anche ganesha qua guardate che questo è pieno d'oro qui è allora qui intanto tanto per dirne una ci conferma sicuramente il discorso economico che va a migliorare perché hai scelto la lettura numero tre lapislazzuli questo straconfermato al cento per cento poi c'è questo tuo essere più leggera leggero perché sicuramente molto è legato alla preoccupazione di questa cosa quindi materiale economica perciò non ti preoccupare perché qua quello che sta per arrivare e sono proprio soldi non solo non solo qui è tutto molto meritato qui te lo meriti sicuramente perché oltre a questo quindi oltre a stare bene nella vita materiale nella nostra vita qua sulla terra avrai anche un supporto di una connessione in aumento per quanto riguarda ovviamente l'ambito spirituale quindi anche connessioni che aumentano con le tue guide con i tuoi angeli risposte che riceverai connessioni proprio con le persone anche defunte se vogliamo quindi comunque tutte persone che sono nell'ambito e nella sfera spirituale che non sono nella terza dimensione ma sono già oltre va bene potrebbero essere anche i maestri ascesi e potrebbero essere gli arcangeli insomma tutti gli esseri benevoli di luce che possono esserci intorno a te quindi questi sono cambiamenti per te che stanno per arrivare vediamo un altro consiglio ecco ti sto comunicando con i numeri quindi già abbiamo queste comunicazioni cerca il significato qui ho fatto una una serie di questi video se vuoi vedere sulle playlist sui numeri degli angeli e ti sto mandando segnali quindi già ci sono questi segnali 11 11 ti sto mandando proprio segnali comunicando con i numeri anche no segnali numeri quindi vai a vedere cos'è che ti stanno proprio comunicando vediamo altre cose che sono in arrivo per te per chi ha scelto la lettura 3 quali cambiamenti stanno per arrivare quali cambiamenti stanno per arrivare la lettura 3 quindi sono uscite una dietro l'altra e vediamo i cambiamenti per la lettura 3 quali sono ok allora qua siamo di nuovo con sta abbondanza economica allora qua finalmente riesci a liberarti ci dicono qua dalla sofferenza ok e da tutto quello che hai sempre cercato di tenere lontano qui dicono che sei una persona che ha sofferto anche perché a volte non ha voluto magari affrontare di petto le cose è come se fosse sempre stata un po sulla difensiva di fronte a certe cose certi argomenti non ne voglio parlare questa cosa no cioè è questo un po da questo tu ti libererai va bene ti libererai da questo questo incatenamento magari no interiore tuo ma non credo che sia stato fatto dagli altri qui credo proprio che sia una questione personale che hai fatto va bene di soffrire forse sei a conoscenza di questi limiti che tu hai posto di questi limiti che tu hai messo a te stessa o a te stesso perché lo facciamo in continuazione questo è cioè non è non è una cosa da poco questo riconoscere che siamo anche noi a volte a porci dei limiti a fare degli sbagli e a non affrontare queste cose quindi qua ti toglierai questa sofferenza questo dolore che ti porti dietro proprio perché a volte non hai voluto proprio permettere anche agli altri vabbè ti sei troppo difesa difeso dovevi permettere magari anche a persone di farti aiutare ok quindi questa cosa la lascerai la libererai va bene quindi finalmente c'è uno step successivo nella tua vita e che ti porterà proprio questa abbondanza tanti penso pure che o cambieranno casa o compreranno casa perché qua abbiamo proprio la casa i soldi la famiglia c'è l'ambiente proprio stabile della casa va bene quindi questo è molto importante compreso il denaro ci dicono qua quindi molto bene se allenterai questi tue magari punti deboli e che tanto ce l'abbiamo tutti nella vita quindi riconosceli e lasciali andare come ti dice questo flusso lascia andare butta via tutte le cose che ti hanno portato a difendersi a difenderti da qualsiasi cosa da ognuno va bene qui adesso ti puoi rilassare arriva per te un bellissimo periodo florido e felice stesa 3 lettura 3 grazie mille sono contenta molto bella questa stesa ti invito a lasciarmi un like al video iscrivete al canale io vi ricordo a tutti le informazioni nell'info box chi vuole una rispostina a una domanda è a fronte di una piccolissima donazione su coffee.com chi invece vuole guardare il sito web anzi vi rimando proprio il mio sito web www.quintadimensioneletture.it ci sono molti argomenti interessanti di crescita spirituale informazioni sul piano divino traduzioni che faccio io quindi molte cose proprio per la tua crescita personale e anche spirituale va bene lavori sull'eosono sui raggi andate a vedere un po tutto quello che c'è in questo canale proprio di lavoro gratuito per la vostra crescita spirituale allora che dirvi grazie mille vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video e vi ringrazio di cuore ciao a tutti grazie a tutti